Io sono una persona incline. La vostra personalità è una goccia che evapora ad ogni incarnazione di VB. Come si possono superare le nostre limitazioni? Commento, mettendole continuamente in discussione. Io sono una persona incline alla rabbia? Bene, io metto continuamente la mia rabbia sotto il fuoco fisso della mia attenzione e a poco a poco la sradico e le faccio perdere forza. In quel momento ho aggiunto un importante scatto in avanti alla mia evoluzione. Grazie a tutti.